Ciao e benvenuto in AMI Advertising, agenzia di web marketing, che si trova ad Abbiategrasso, Milano, via Gobetti 2, secondo piano interno 9. La nostra missione è attrarre inserzionisti pubblicitari da inserire nei nostri prodotti proprietari il videoportale Me to Milano Tourism and World Travel e sul blog To Me Milano Tourism and World Travel. Eroghiamo anche, per un numero selezionato di clienti, già nostri inserzionisti o che diventeranno tali, servizi di web agency tradizionali come creazione siti, portali e-commerce, posizionamento, ricerche di mercato. Valuta le nostre proposte e per ogni domanda non esitare a contattarci. Grazie e a presto!